Ciao ragazzi, ho appena imparato una cosa importante. In un grande hotel quest'anno a Bologna c'è il Trofeo Sitta e io non ci sarò. Ma tu ci puoi andare. Quando? Il 15 e 16 giugno. Dove? Come sempre all'Hotel Savoia. Iscrivetevi, ne vale la pena. Iscrivetevi, ne vale la pena.